Siamo tornati ieri da Mosca, oggi sono arrivati altri cinque ragazzi per darci un po' di energia e dare anche più di competizione sotto i posti per andare a Lione questa fine settimana, questa energia che è ben venuta dopo la settimana che è venuta a Mosca. Adesso faccio due allenamenti, un'altra oggi pomeriggio, un'altra domani per riprendersi, pronti per andare a riparare i danni fatti la settimana scorsa e mettere a posto quello che dobbiamo fare a Lione. Siamo orgogliosi del nostro attacco, della nostra difesa, ma soprattutto essere orgogliosi di rappresentare l'Italia.